La politica, i giudici e il giornalismo sono i tre soggetti che ruotano attorno alla questione del fine vita in questi giorni. La politica che non ha prodotto una legge nemmeno su invito pressante della consulta nel 2019. I giudici che oggi sembrano una terza camera pronta a decidere sul da farsi. I giornalisti che pubblicano, cosa grave, indiscrezioni, peraltro sbagliate, su una sentenza della Corte Costituzionale prima ancora che essa esca. Di fatto, la sentenza emessa oggi dalla Corte Costituzionale ha espresso il forte ospicio che il legislatore e il Servizio Sanitario Nazionale assicurino concreta e puntuale attuazione ai principi fissati dalla propria precedente sentenza, fermo restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina nel rispetto dei principi oggi richiamati. Tutto era nato dal recente caso di un 44enne toscano accompagnato in Svizzera a morire da Marco Cappato. Per questo, come per i casi precedenti, il governo Meloni aveva deciso di costituirsi parte civile chiedendo che la questione di legittimità sollevata dal GIP del Tribunale di Firenze, che indaga i tre dopo che si sono autodenunciati al loro ritorno in Italia, fosse dichiarata inammissibile o infondata. Per tutti i casi la questione ruota intorno all'interpretazione della formula trattamento di sostegno vitale, una delle quattro condizioni insieme all'irreversibilità della patologia, sofferenze intollerabili e la capacità di prendere decisioni libere e consapevoli individuate dalla Corte Costituzionale nel 2019, affinché il suicidio medicalmente assistito possa essere lecito in Italia. Importante la sottolineatura della sentenza odierna, nella quale si ribadisce lo stringente appello, già formulato in precedenti occasioni, affinché sia garantita a tutti i pazienti una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza.